Allora ragazze e ragazzi mi dispiace porre fine all'intervallo ma purtroppo devo chiedervi di tornare a sedervi così riusciamo a condensare in questa seconda parte della mattinata più domande possibili penso che appunto sia nell'interesse di tutti ricominciare presto Allora adesso riprendiamo con la relazione del professor Lingiardi che è psicanalista, psichiatra e saggista e che quindi ci parlerà della questione dell'identità da un'altra prospettiva in un certo senso complementare a quella di cui ci ha parlato il Cardinal Ravasi Ora lascio qualche secondo per sedervi ancora, grazie della vostra puntualità siete stati molto bravi devo dire credo che questa mattina sia una mattina bellissima per tutti quanti noi che sia ricchissima di spunti, veramente un viaggio appassionante dentro l'idea dell'identità e vi ringrazio anche per il vostro comportamento perfetto che state tenendo questo silenzio meraviglioso, concentrato, attento e anche per la vostra puntualità grazie perché io sono molto angosciata di non essere io molto puntuale e mi state aiutando tantissimo prego lascio la parola al professor Lingiardi Intanto iniziamo con un applauso a Elaria Gaspari perché dice che deve cimentare il suo carattere che non è portato alla precisione e al controllo ma mi sembra che stia esercitando meravigliosamente la sua funzione naturalmente io ringrazio chi ha organizzato questa mattinata molto intensa e molto bella e ringrazio però soprattutto voi perché abituato comunque a un pubblico numeroso quello delle mie studentesse e dei miei studenti in università devo dire che siete molto più attenti e molto più partecipi spesso quando faccio lezione a un certo punto dico vabbè non fate parlare solo me avete qualche domanda silenzio di tomba invece qui c'era una bellissima fila di ragazze e di ragazzi con le loro domande e la mia impressione è anche che ci stiamo muovendo su due piani c'è un piano molto alto che è il piano della cultura con la C maiuscola con i riferimenti storici, i riferimenti letterari ma quando questo piano della cultura è alto contiene sempre e io l'ho letto in controluce nelle vostre domande anche la parola della cultura con la C più piccola che è la cultura della giornata, della quotidianità, dell'esperienza, dello stato d'animo è un po' come parlare della storia con la grande S e della storia o meglio delle storie con la S più piccola una ha bisogno dell'altra e allora io vorrei cercare un po' di infondere anche l'esperienza della individualità, della quotidianità, del disagio, della sofferenza personale naturalmente nel contenitore della saggezza degli antichi e dell'importanza della conoscenza delle parole e delle loro origini avevo preparato come mi capita di fare quando so che devo parlare un po' ma ne troppo ne troppo poco e toccare dei temi importanti di solito scelgo qualche parola chiave però come mi sono seduto a questo tavolo e ho iniziato ad ascoltare le parole degli altri ho pensato che se devo riflettere sull'identità o forse sulle identità perché non ce n'è una sola qual è la cosa che ha un'identità e dà un'identità? sono proprio le parole e le parole sono contenute anche nel silenzio era molto bello quel legame che ha fatto Gianfranco Ravasi l'amore, la parola e il silenzio è come se ci fosse una circolarità virtuosa è come sapete benissimo che il silenzio è parte integrante della musica è una famosa passione di Claudio Abbado il grande direttore d'orchestra che parlava proprio della musica e del silenzio immaginate che cos'è un concerto, che cos'è una sinfonia che cos'è un'opera senza le pause, senza i silenzi quindi il tema della parola e del silenzio mi ha portato immediatamente al centro della mia esperienza una delle esperienze più importanti della mia giornata della mia settimana e ormai devo dire della mia vita che è l'ascolto io faccio lo psicoanalista che è una parola anche un po' impegnativa se volete una parola meno impegnativa faccio lo psicoterapeuta faccio un lavoro che fin dalle origini è stato chiamato dagli americani e dagli inglesi che hanno uno spirito linguistico anche molto pratico una talking cure cioè una cura basata sulla parola ma una cura basata sulla parola è una cura basata sull'ascolto e allora in mezzo a tante citazioni è stato già evocato il filosofo Montaigne una delle più belle diciamo frasi che potete trovare nella grande opera di Montaigne è proprio quella che dice la parola è metà di chi parla è metà di chi ascolta la parola non è mai un oggetto nostro che possiamo usare indipendentemente dalla riflessione sul destinatario sui destinatari non è una clava che possiamo usare contro gli altri è un tramite un tramite un ponte di comunicazione e questo ponte di comunicazione attraverso le parole è proprio legato all'esperienza dell'ascoltare che cosa hanno le altre persone da dirci e soprattutto questo è molto legato alla mia professione le loro storie le storie personali la psicoanalisi e diciamo così le discipline della psicoterapia vengono dal mondo della medicina Freud era un medico e è più recente diciamo il massiccio ingresso della comunità delle psicologhe e degli psicologi nasce come scienza medica la psicoanalisi naturalmente nasce nel seno della psichiatria che è una scienza medica e uno dei più grandi psicoanalisti del secolo scorso che nasce pediatra e diventa psicoanalista quindi diventa psicoanalista perché ha curato i bambini e ha capito che tutto si svolge in quei primi anni di vita molto si svolge in quei primi anni di vita e già qui c'è un rimando alla questione dell'edipo che è stata posta prima ecco Winnicott diceva che una buona anamnesi è già una mezza terapia che cos'è una buona anamnesi una buona anamnesi è la capacità di ricostruire e di ascoltare una storia poi c'è la diagnosi e poi c'è la prognosi ma questo ci colloca in una dimensione di temporalità c'è un momento che ha a che fare con il ricordo della propria storia delle proprie esperienze ma non in qualche modo chiuso concluso in una sorta di autoriflessione o in un diario che non legge nessuno no la propria storia ascoltata da un altro e noi abbiamo un'espressione che è la co-costruzione del racconto cioè si costruisce insieme perché naturalmente l'ascolto dell'altro genera delle domande che generano delle riflessioni che generano delle risposte che generano delle interpretazioni questo è il senso della talking cure cioè restituire qualcuno alla propria storia che non sempre è una storia bella spesso è una storia piena di dolore è una storia per essere vicini alle esperienze di ragazze e ragazzi della vostra età che ascolto spesso legata a situazioni familiari molto difficili per non dire disfunzionali legate a situazioni di conflittualità nei contesti scolastici legate a situazioni di solitudine legate a situazioni di sorpresa e spaesamento relativamente al proprio corpo che cresce rispetto alla propria identità che è una ricerca che è una costruzione continua che da una parte chiede un ancoraggio quindi qualche cosa di solido di radicato e dall'altra parte chiede un'esplorazione quindi qualche cosa di più aereo di più aperto al futuro e anche aperto all'incertezza e quindi una delle parole che io vorrei introdurre all'interno della riflessione sull'identità è questa è la tensione l'identità è una tensione tra il bisogno di sicurezza e di certezza qualcosa che per esempio oggi c'è poco uno psicoanalista che io amo molto che si chiama Heinz Hartmann è uno dei tanti tedeschi scappati dal nazismo che hanno poi costruito la psicoanalisi nel Nord America diceva che i ragazzi e le ragazze per crescere hanno bisogno di un ambiente medio prevedibile io credo che oggi l'ambiente medio prevedibile tra la crisi climatica tra la difficoltà economica strutturale tra le emergenze pandemiche tra i teatri di guerra così intorno a noi ecco parlare di ambiente medio prevedibile stiamo sentendo parlare di nucleare e pensavamo che fosse una parola forse in qualche modo legata ai racconti dei nostri genitori che hanno vissuto i miei i vostri no la fine della seconda guerra mondiale ecco quindi questo tema da una parte del bisogno di un ambiente medio prevedibile di certezze di esempi di modelli di ispirazioni di identificazioni possibili ma dall'altra parte anche di libertà di esplorazione di avventura di cimentarsi con tutto quello che è nuovo nell'identità io credo che ci sia la capacità e la difficoltà individuale di stare dentro questa tensione oggi la definirei anche forse in termini più ampi una tensione tra la nostalgia e la trasformazione pensate anche semplicemente al tema di come si modificano negli anni di generazione in generazione le nostre concezioni legate a che cos'è maschile che cos'è femminile giustamente Ravasi ricordava la complessità anche esegetica della costruzione dell'uomo e della donna del maschio e della femmina della coppia delle sue differenze delle sue somiglianze ecco oggi credo che ripensarsi in termini identitari anche rispetto a questo parametro storicamente binario sia complesso sia un compito complesso come tutti i compiti complessi riveste un profondo interesse la complessità è molto più interessante della semplificazione del riduzionismo di cui molti oggi sono vittime però è un territorio un'esplorazione piuttosto ardita e spesso anche che richiede la capacità di attendere la capacità di tollerare l'incertezza allora le parole chiave che io avevo messo un po' in ordine una volta diciamo superata la familiarizzazione col fatto che stiamo nutrendoci di parole e anche di silenzi nasce porta immediatamente appunto questo tema dell'identità che molto semplicemente anche se è un concetto tutt'altro che semplice mi ha portato a parlarvi di questa tensione questa tensione che implica l'esplorazione a questo proposito c'è una bellissima poesia di Robert Frost Robert Frost è stato un grande poeta americano ha vinto quattro volte il premio Pulitzer e ha avuto trentun candidature per il Nobel che non ha mai vinto questo me lo rende anche più simpatico e peraltro è una è una poesia che vorrei in qualche modo dedicare anche proprio a a Gianfraco Ravasi perché ha molto a che fare con quello che lui ieri sera ci ricordava della parabola del samaritano e questa poesia dice due strade divergevano in un bosco e io presi quella meno battuta e questo ha fatto tutta la differenza quindi intanto l'importanza di stare in questa tensione che ci porta sempre di fronte a dei bivi e di avere a volte la forza e il coraggio di intraprendere la strada meno battuta che è la strada non imitativa che è la strada che cerca una dimensione di originalità di autenticità che non è un'improvvisazione fine a se stessa è profondamente legata a quel nucleo a quel sentimento di sé che iniziamo a sviluppare fin dai primi giorni della nostra esperienza su questa terra credo che sia importante anche il sentimento di appartenenza a una comunità questo lo diceva molto chiaramente Ivano Dionigi quando vi diceva fate politica perché entrate nella polis è difficile trovare la propria strada anche quella non battuta che implica la solitudine senza avere un contesto di riferimento che è quel contesto di ascolto di cui vi parlavo prima e quindi l'identità è un sentimento direi che nasce nella relazione e che non deve spaventarci se ci appare in una dimensione non sempre e non del tutto chiara un altro poeta che io amo molto è Walt Whitman che dice un altro verso che io penso sia molto utile per orientarci mi contraddico sì ebbene mi contraddico contengo moltitudini e cosa vuol dire che conteniamo moltitudini e questo mi porta a parlare diciamo della terza dimensione che volevo segnalarvi il tema della convivenza allora Whitman dice mi contraddico contengo moltitudini ma di nuovo Montaigne quindi almeno 300 anni prima diceva io loderei un'anima a diversi piani non appiattiamoci su un unico livello di relazione con noi stessi e su un unico livello di relazione con gli altri e quando riflettiamo sull'importanza del tema della convivenza cioè dello stare in una relazione cosa che è già stata ben detta per strutturare la nostra identità io sono l'altro la mia identità è data dal viso dagli occhi dallo sguardo dell'altro il che non significa naturalmente che non dobbiamo coltivare la nostra solitudine e anche apprezzarla ma la solitudine e l'isolamento sono due concetti molto diversi e sempre il mio amato Winnicott di prima il pediatra poi psicoanalista dice in un bellissimo saggio l'importanza di imparare a stare soli in presenza dell'altro torno alla convivenza quando qualcuno dice convivenza la prima cosa che viene in mente è certo l'importanza di convivere con per esempio le persone nuove che arrivano nel nostro paese le persone che ci portano l'alterità altre storie altre culture altri colori altre abitudini integrare negoziare comprendere ed essere curiosi di questo certo questa è la convivenza sociale la convivenza culturale ma io voglio fare non uno ma due passi indietro perché la prima convivenza è dentro noi stessi io credo allora io ho sentito e ho intuito giustamente la fame di risposte che c'era dentro le vostre domande ma penso che non siamo in grado e ne vogliamo essere in grado di dare risposte perché le risposte arrivano anche da una ricerca individuale però sicuramente il tema della convivenza ci mette di fronte alle cose diverse che vogliamo la compagnia e la solitudine in questo momento essere fuori a fare una bella passeggiata in questa fresca ma soleggiata giornata o andare a giocare a scherzare a ridere o abbracciarsi con le persone a cui vogliamo bene ma anche vogliamo stare qui ascoltare capire domandare quindi vogliamo tutti delle cose contemporaneamente diverse allora io credo che qualcosa da imparare forse l'unica cosa che mi sento di fornire come risposta se non vogliamo dire come insegnamento è che la convivenza con gli altri nasce da un piano di convivenza interrogativa con noi stessi capace di rigenerare guardate viene di nuovo fuori la parola tensione quella tensione tra direzioni diverse che ci sospingono contemporaneamente da qui emerge la seconda convivenza che non è quella sociale ma è quella con l'altro o l'altra è la convivenza affettiva è la convivenza familiare è la convivenza amorosa è la convivenza sessuale prima la convivenza con noi stessi che non è risolta una volta per tutte non è risolta mai ma è sempre deve esserci sempre presente questo che Zenone il filosofo Zenone chiamava unus ego et multi in me sapere che siamo uno ma anche sapere che dentro questo uno c'è una moltitudine poi la convivenza con l'altro o l'altra la persona immediatamente vicina quello che la psicoanalisi americana chiama the significant other l'altro significativo che non è uno c'è sempre c'è sempre qualcuno più vicino c'è sempre un tema del due nelle vite e qua mi viene in mente un altro verso che io amo molto che è di un altro poeta che questa volta è inglese che si chiama Oden e che dice if equal affection cannot be let the more loving one be me se un amore è uguale se un affetto uguale non è possibile lascia che io sia quello che ama di più cioè nella relazione con l'altro c'è anche molto la questione del potere e la questione del potere spesso è legata al chi ama di più e qui c'è un'assunzione di profondità esperienziale esistenziale nel comprendere che la fortuna è amare e naturalmente essere amati è qualcosa da imparare non è facile essere amati e c'è anche qui vedete un tema di convivenza tra me e l'altro e poi naturalmente c'è la convivenza del noi e questo è un anello perché se noi impariamo la convivenza con noi stessi quando ci traslochiamo nella convivenza con l'altro abbiamo degli strumenti di competenza maggiori non non vestiamo l'altra persona con le nostre proiezioni con la ricerca estenuante della soddisfazione dei nostri bisogni creiamo una negoziazione creiamo quella che nel lavoro clinico si chiama il movimento delle rotture e delle riparazioni mica con i pazienti andiamo sempre d'accordo con i pazienti spesso abbiamo conflitti siamo accusati di non comprenderli di non dirgli le cose che si aspettano di limitarli con le nostre interpretazioni ma poi c'è il momento della riparazione che è ritornare al punto di prima ma essere più avanti le relazioni che funzionano non sono quelle senza le litigate le relazioni che funzionano sono quelle dove una rottura che giustamente è la segnalazione di un punto di vista diverso di una critica di un'arrabbiatura si può ricomporre dentro una riparazione dentro una restituzione di senso al dialogo che stiamo costruendo non sempre è possibile infatti ci sono le separazioni ci sono i divorzi ci sono le amicizie che si rompono anche quello è un tema di consapevolezza della convivenza interiore che non sempre e non tutto si può riparare ma l'elaborazione della separazione della consapevolezza della rottura nella relazione con l'altro serve a crescere quando termina la rabbia e per certi aspetti entra in gioco quel tema che è stato giustamente evocato dopo il delitto e dopo il castigo che è il perdono quindi questa parola convivenza è una parola che io direi si basa sul riconoscimento e sul riconoscimento reciproco io non sono un grande latinista ma spero Ivano di non dire una bestialità se nella parola reciproco c'è il recus e il procus cioè c'è un movimento di allontanamento e un movimento di avvicinamento la reciprocità è fare un passo indietro per vedere bene la fisionomia dell'altro e un passo avanti per poterla condividere e quindi l'amore è fatto di distanza anche non è solo fatto di vicinanza gli amori troppo adesivi sono soffocanti se pensate i movimenti vitali sono tutti i movimenti di vicino lontano pensate al battito cardiaco sistole e diastole sistole il cuore si stringe diastole si allarga pensate alle onde sulla battigia le onde arrivano e le onde si ritirano quindi anche nelle relazioni interpersonali è molto importante rispettare questo movimento di vicino lontano ma soprattutto rispettare il movimento che l'altro chiede di stare un pochino in disparte perché magari non è il momento per l'eccessiva vicinanza non entro nel merito ma questo è un riferimento molto esplicito al problema delle molestie dello stalking delle persecuzioni che sappiamo anche hanno epiloghi molto tragici nel contesto delle relazioni cosiddette tossiche amare non è assolutamente possedere non è assolutamente imporre non è assolutamente dominare amare e anche sapersi allontanare e sapere capire quando il tempo della riparazione dopo la rottura non è possibile allora prima di dirvi molto più brevemente le altre due parole che avevo pensato siccome io credo che alla fin fine gli esempi personali siano quelli che ci aiutano di più vi volevo leggere una piccola cosa che ho scritto proprio su questo tema dell'io tu noi ed è una cosa proprio piccola dell'esperienza di una giornata ma spero che vi aiuti a capire che cosa intendo dire era estate ero in coda in autostrada e ho deciso di uscire a Piacenza Sud affidandomi alle indicazioni del navigatore provvidenzialmente sbagliate dopo un'oretta mi sono ritrovato davanti a Sant'Agata alla casa di Giuseppe Verdi per 50 anni era pieno agosto faceva molto caldo non c'era nessun visitatore e così dopo essermi perso nelle pacifiche contrade emiliane mi sono perso una seconda volta nelle stanze di questa villa disabitata e qui che si sedeva a comporre cenava a questo tavolo con Giuseppina Strepponi e poi una terza volta mi sono perso tra le piante del parco avevo messo la musica del Macbeth di Verdi negli auricolari ero molto commosso ed ero pieno di ricordi ero con me ero con i multi in me perché ero il bambino perduto ero l'esploratore adolescente ero il viaggiatore in incognito ed ero l'amante della musica ormai quasi anziano l'impalpabile marea della malinconia che mi saliva sugli occhi un dentro ormai troppo pieno questi multi in me cercava istintivamente un tu e a chi raccontare con chi celebrare e ricordare se non con Luca che mi ha insegnato ad ascoltare la musica di Verdi allora gli ho telefonato e poi gli ho mandato un whatsapp una foto della villa e gli alberi attorno non ero più con me ero con te poi sono tornato a casa e mi sono messo a scrivere e siccome stavo scrivendo un libro mi sono messo a pensare alle persone che avrebbero letto le mie pagine alle persone che conosco ma soprattutto alle persone che non conosco e pensavo che appartenevo a una comunità più ampia di persone che non conosco e mi domandavo se poteva essere interessante quello che stavo scrivendo se aveva senso se lasciava il tempo che trova ero con gli altri ero con il noi quindi punteggiata di soste individuali duali o collettive la vita è circolare senza un tu forse quella pienezza di me stesso mi avrebbe tradito la malinconia poteva prendere il sopravvento la commozione poteva diventare una forma di solitudine e la solitudine poteva diventare una forma di rabbia rovinandomi il piacere dell'escursione imprevista e dell'abbandono musicale ma senza quel noi la nostra vita sarebbe sempre chiusa su noi stessi sui nostri bisogni sui piaceri e sui dispiaceri dell'io tu nella vita coniugale non ci sarebbero le persone che non conosco lo stare bene degli altri non mi farebbe mai da barometro non ci sarebbero la gentilezza e la passione politica e quindi in sintesi quello che questa piccola esperienza autostradale musicale mi ha insegnato è che senza un io sono perduto senza un tu questo io però si svuota o si riempie troppo e senza gli altri questo tu si inaridisce se però questo io è tutto per gli altri e divento sordo a me stesso calpesto il mio io e quindi c'è questa circolarità fondamentale che credo sia quella che nutre anche a un livello psichico ma come avete visto inevitabilmente politico e relazionale il senso il tentativo di costruire delle convivenze possibili la parola che volevo introdurre ulteriormente è fiducia fiducia è una parola molto cara alla psicoanalisi soprattutto alla psicoanalisi degli anni sessanta del secolo scorso quando un grande autore inglese John Bowlby studia un sistema che si chiama la teoria dell'attaccamento dice diversamente da Freud che non siamo tutti pulsionali cioè non siamo creature che nascono per la soddisfazione di bisogni primari mangiare dormire siamo creature che tra i loro bisogni fondamentali Bowlby era anche un etologo quindi questa cosa l'ha studiata anche nell'osservazione animale cercano un attaccamento cioè una figura in grado di garantire protezione sicurezza relazione e continuità vedete come il tema dell'identità è insito nel tema della crescita è insito nel tema della convivenza e di nuovo vorrei citarvi Robert Frost il poeta di prima per evidenziare come sia condivisione il tema dell'identità Robert Frost in un altro verso molto bello dice la casa è quel posto in cui quando ci devi andare ti accolgono ti accolgono sempre la maggior parte delle esperienze di dolore che io raccolgo nel mio lavoro e molte sono di persone della vostra età sono legate al sentimento di non essere stati riconosciuti come possibili abitanti di una casa questo non ha niente a che fare col fatto di avere dei genitori separati o dei genitori che litigano è qualche cosa che appartiene alla possibilità di condividere un'esperienza in cui si è riconosciuti e si ha questa reciprocità io credo che buona parte della cultura della socialità online rispetto alla quale non scambio nessun anatema sono io il primo a stare su Instagram ma sta nel bisogno di essere visti io credo che molte cose che succedono online nascono dalla sensazione di dover essere visti che ci sia qualcuno che dica ti ho visto ci sei posso avvicinarmi posso allontanarmi sono in una relazione posso ascoltarti ecco gran parte del disagio e della solitudine di cui tra l'altro si faceva riferimento prima a una domanda nasce da qui questo pone la penultima parola che è quella del narcisismo la parola del narcisismo pensiamo immediatamente a una caratteristica negativa qualcuno che si dà molta importanza che crede di essere migliore degli altri più bello più bravo più ricco più intelligente più di successo questo è un pezzo del narcisismo si chiama il narcisismo grandioso Herbert Rosenfeld uno psicoanalista interessante anche lui forse un po' più difficile di quelli che ho nominato prima diceva che esistono due tipi di narcisismo thin skin e thick skin thin è sottile la pelle è sottile thick è spesso è la pelle spessa la pelle spessa è il narcisismo grandioso è il narcisismo che ci sono solo io che tu non mi interessi che tu devi stare a mia disposizione perché quello di cui io ho bisogno è un pubblico adorante e voi capite che dietro questo narcisismo grandioso di pelle spessa in realtà c'è una persona molto fragile che per sostenere un'identità che non è riuscito a costruire ha bisogno di un'adorazione di un pubblico e così si convince e perpetua questa condizione con molto successo ci sono persone a narcisismo grandioso che fanno la loro fortuna su questo per esempio nel mondo politico è molto frequente poi c'è però anche il narcisismo della fragilità il narcisismo cosiddetto a pelle sottile il narcisismo di chi vive nel timore dell'essere giudicato dell'essere criticato è un'altra forma di insicurezza è sempre molto concentrata su di sé e risponde come l'altra alla domanda quanto valgo in quel caso c'è un complesso di superiorità valgo più di tutti in quest'altro caso c'è un complesso di inferiorità valgo meno di tutti di nuovo vi propongo il tema della tensione non dobbiamo sempre farci piccoli piccoli ma non dobbiamo neanche sovrastare troppo gli altri allora la tensione tra il narcisismo fragile e il narcisismo grandioso è quella forma di narcisismo sano che consente l'affermazione la costruzione di sé anche la capacità di dire adesso ci sono io adesso è il mio momento ma contempla il riconoscimento l'ascolto e per esempio non si nutre del fallimento altrui e per esempio è capace di un sentimento come quello della gratitudine che è un sentimento molto importante una psicoanalista finalmente possiamo citare una psicoanalista donna Melanie Klein scrive un saggio bellissimo e molto importante che si intitola invidia e gratitudine e dice che nel bambino questi due sentimenti sono molto in conflitto perché da una parte c'è la gratitudine per il seno che li nutre o il biberon se non c'è l'attaccamento al seno ma dall'altra parte sono invidiosi di quel nutrimento perché sanno che senza quel nutrimento loro non ce la farebbero e la gratitudine è qualcosa che si acquisisce nel momento in cui riusciamo ad accettare il fatto che qualcuno può darci qualcosa che non abbiamo che eravamo mancanti di quella cosa l'abbiamo ricevuta come un dono come appunto un ascolto un riconoscimento e adesso l'abbiamo ma non l'avevamo prima non c'è bisogno di vivere con l'invidia distruttiva perché tu hai una cosa e io non ce l'ho c'è bisogno di una tensione che mi consenta di comprendere che cosa ho io che cosa hai tu in che cosa di nuovo questo è un tema molto importante dell'identità siamo diversi fino all'iperidentitarismo anche sovranista che secondo me è dannoso perché sottovaluta la riflessione su che cosa in che cosa siamo invece uguali la somiglianza è l'altra faccia dell'identità come differenziazione sono necessarie entrambe di nuovo un appello alla tensione tra polarità tra esperienze tra dimensioni che abbiamo bisogno appunto di integrare di negoziare di non mantenere scisse le esistenze scisse sono le esistenze dove facciamo più fatica vi lascio con a proposito no faccio un altro piccolo riferimento poetico come avete capito le due passioni della mia vita sono la psicoanalisi e la poesia hanno la lettera P in comune ma hanno anche qualcosa di più una sorta di capacità di comprendere e di entrare in relazione con un mondo interiore delle cose anche non necessariamente sempre perfettamente comprensibili vi sarà capitato tante volte spero che vi sia capitato di leggere una poesia e di non capirla nel loro significato immediato ma di capirla con una sorta diciamo così di pensiero interiore vi arriva vi arriva poi viene l'esegesi la comprensione una poesia che mi sembra giusto ricordare in questo momento proprio per rispondere alla domanda sei tu tu qui est è una poesia di Emily Dickinson per me la più grande poetessa e dice who are you I am nobody tu chi sei e a quella domanda risponde io non sono nessuno e se non sei nessuno anche tu benissimo siamo una coppia di nessuno questo ovviamente capite che non è un invito all'autoflagellazione o un invito all'autoannullamento ma è un invito al ridimensionamento delle istanze iper egocentriche ipertrofiche di affermazione che non comprendono invece la misura del mondo il sapere che non siamo al centro di tutto questo discorso ha implicazioni molto forti sul piano ecologico che già sono state ricordate rispetto a questa dimensione antropocentrica che ha distrutto la convivenza con il pianeta e forse non siamo neanche molto in tempo quindi cosa ci rimane? un'ultima parola che amo particolarmente è sogno amo questa parola sogno perché di nuovo contiene una tensione è il fatto più privato più personale più autobiografico meno algoritmizzabile che possediamo perché avviene di notte persino in assenza della nostra consapevolezza è un racconto involontario che fa di noi narratori sempre ma che non possiamo in qualche modo preparare preventivare il sogno alla bellezza dell'imprevedibilità del movimento interiore è il sogno a cui si è applicato Freud con la Traumdeutung l'interpretazione dei sogni che scrive nel 1899 ma vuole che venga pubblicata nel 1900 perché capisce che sarà una parola fondativa perché è la parola che dice hai una vita dentro di te che non conosci ma che è viva e con la quale devi stabilire un contatto poi le psicoanalisi che sono tante hanno lavorato in modi diversi sul sogno dalla dimensione appunto più artigianale dell'interpretazione simbolica alle dimensioni più contemporanee che fanno del sogno un ascolto legato che fanno del sogno un racconto legato all'ascolto di qualcuno e quindi la dimensione proprio narrativa del sogno ma sogno è anche una parola non solo così privata e intima oltre che una parola ovviamente neurologica e neurobiologica perché avviene dentro il cervello il sogno il cervello e la mente sono la stessa cosa chiamati con linguaggi diversi e studiate da prospettive diverse ma il sogno è anche una parola estremamente collettiva vi ricordate Martin Luther King che dice I have a dream io ho un sogno qual era quel sogno era che un giorno sulle rosse colline della Georgia si possa costruire un tavolo il tavolo della fratellanza dove i discendenti dei figli degli schiavi potranno parlare con i discendenti dei proprietari degli schiavi rotture riparazioni dialogo ascolto trasformazione attraverso un sogno abbiamo bisogno di questo sogno in un momento in cui i sogni sono infranti e la poesia muore sotto le bombe c'è una bellissima poesia di una bambina ucraina una poesia pensate che è stata scritta quando questa bambina aveva meno di dieci anni si chiama Nica Turbina e dice sono pesi queste mie poesie pietre spinte lungo la salita le porterò stremata allo strapiombo poi cadrò viso nell'erba non avrò lacrime abbastanza smembrerò la strofa scopierà insinghiozzi il verso e si pianterà nel palmo con dolore anche l'ortica l'amarezza di quel giorno tutta trasmuterà in parola la parola la parola poetica il sogno di una possibilità di rifondazione dell'esistenza di trasformazione faticosa è l'unica cosa che ci può salvare in questi tempi molto difficili grazie grazie a Vittorio Lingiardi per questa bellissima emozionante relazione io sarò pressoché telegrafica perché ho l'angoscia del tempo che oggi non mi abbandona riprendo uno spunto dal discorso del professor Lingiardi che mi ha colpito molto il riferimento alla gratitudine in rapporto all'identità mi ha colpito molto questo riferimento perché la gratitudine non è soltanto una sfumatura emotiva che tutti conosciamo almeno lo speriamo è anche è anche una postura è un modo di porsi rispetto all'altro agli altri ai benefici che possiamo ricevere dal di fuori ai doni che ci possono arrivare secondo un filosofo del novecento molto complicato ma con delle intuizioni fulminanti che è Teodoro Adorno la gratitudine è l'unica via che noi abbiamo per coltivare la consapevolezza della nostra felicità quindi ha una funzione cognitiva importante è in grado di farci rendere conto di cosa succede quando siamo felici felice è una parola che viene dal latino e che indica una forma di fecondità di fertilità noi siamo felici quando produciamo frutti in un certo senso siamo felici quando siamo più attivi quando siamo più responsabili di quello che facciamo ed ecco che la gratitudine diventa lo strumento che noi abbiamo per renderci conto della felicità che proviamo per non doverci ritrovare a inseguirla seguendo il rumore dei passi che ha fatto andandosene via molto spesso abbiamo paura siamo paralizzati dalla paura una paura che conosceva già Epicuro quando elabora il suo tetrafarmaco che è una rassicurazione agli uomini della possibilità di essere felici abbiamo paura di non renderci conto di quando siamo felici di non farci caso di farci caso troppo tardi che la felicità sia qualcosa che ci sfuga ecco la gratitudine è il mezzo che abbiamo per invece rendercene conto e c'è una poesia di un poeta scrittore che abbiamo già citato prima Borges che è la poesia dei doni che è la riscrittura lo dice la poesia stessa ed è una riscrittura che è inesauribile e che continua a essere proposta e riproposta della poesia antica di Francesco D'Assisi di San Francesco il Cantico delle Creature una poesia in cui lui rende grazie per tutte le cose che rendono la vita degna di essere vissuta è una poesia che è stata riscritta da Walt Whitman che è stato citato poco fa dal professor Lingiardi che è stata riscritta più recentemente da Mariangela Gualtieri è una poesia che non si esaurisce mai e che elenca intessendole tutte insieme delle conquiste che sono conquiste umane della parola umana dell'ingegno umano della sensibilità della filosofia della scienza della matematica con degli eventi personali dei fatti che riguardano la vita del poeta di cui si nutre questa gratitudine come consapevolezza possibile della felicità forse l'identità la troviamo anche in questa possibilità di guardare alla trama della nostra vita al tessuto della nostra vita ponendoci come un'anima al cospetto di se stessa in una infinità finita per citare dei versi di una bellissima poesia di Emily Dickinson che parla di solitudine che dice la più grande solitudine quella che ci propone una segretezza polare che ci fa arrivare più in profondità che mai è quella della nostra anima al cospetto di se stessa ogni se stesso ha bisogno di un tu ha bisogno di confrontarsi con un'uscita dal sé per osservarsi questo lo sanno tutti coloro che si sono confrontati con l'enigmatico motto delfico del conosci te stesso e credo l'abbiamo visto anche insieme stasera ormai mi sembra sera questa mattina seguendo questi percorsi così intensi e così profondi che ci hanno portati nel dialogo non nel monologo alla scoperta di chi possiamo essere ora io non parlo più perché non voglio sciupare tutto quel bel vantaggio temporale che avevamo accumulato e che mi faceva rassicurare così tanto lascio la parola alle domande c'era una domanda precedente abbiamo mezz'ora va bene saremo saremo efficienti come sempre c'erano le domande del ragazzo e delle due ragazze qua davanti che erano già in fila da prima c'era la domanda sulla psicanalisi a cui tu in parte hai risposto ci sono delle altre domande che mi sono arrivate per iscritto insomma iniziamo da loro direi che erano lì in attesa da prima e questa cosa mi angoscia io sì sull'ingiardi sì certamente risponderà il professor l'ingiardi vi chiederei a tutti di arrivare al punto con come dire in maniera piuttosto sintetica se potete scusate se ve lo chiedo so che è bellissimo seguire le acrobazie del vostro pensiero però cerchiamo di andare al punto in modo che il professor l'ingiardi possa rispondervi grazie grazie io sono Elisabetta Galazzi del liceo Galvani mi sentite? sì sì benissimo spesso non siamo pienamente consapevoli delle nostre inclinazioni oppure decidiamo di ignorarle perché non corrispondono alla nostra volontà c'è possibilità di essere felici trascurando ciò che si sente di essere oppure è necessario accettare ciò che siamo e perseguirlo grazie grazie salve buongiorno sono Alice Gamberini del liceo Galvani e la mia classe ha elaborato questa questione partendo da una riflessione sul romanzo di Pirandello Uno nessuno e centomila in cui protagonista Vitangelo Moscarda vive un conflitto interiore scaturito dalle molteplici opinioni che i suoi compesani hanno di lui quanto il parere degli altri può incidere sull'identità dell'uomo che per natura vive in società e al contrario quanto la percezione di noi stessi influisce come gli altri ci vedono buongiorno a tutti sono Jacopo Tarella e frequento il liceo linguistico del polo liceale di Imola e leggendo i testi di Tuquisess mi è venuta in mente una domanda sulla convivenza e come possiamo imparare a convivere con noi stessi grazie grazie allora scusate ora il professore risponde a queste prime tre domande poi passiamo il microfono a voi se volete sedervi per stare più comodi allora le domande sono difficilissime poi siete tantissimi quindi cerco di essere molto telegrafico poi basta diciamo e sono però molto contento di vedere queste di sentire queste domande e come dicevo prima è molto bello che si muovano su un versante diciamo così teorico e anche su un versante pratico dietro ogni domanda c'è sempre anche un po' una riflessione su come possiamo cercare di vivere meglio allora la prima contiene una parola che è molto importante inclinazione dicevano allora intanto inclinazione è la stessa contiene un pezzetto di un'altra parola che è clinica la clinica nella medicina e clino è letto e l'inclinazione è andare verso è il medico che va verso il paziente il clinico è il medico che va verso il paziente anche nel mio lavoro non porto mai il paziente a coincidere con la mia teoria cerco che la mia teoria sia adatta alla comprensione di quel paziente rispetto al tema della inclinazione la domanda mi sembra ponesse questo punto quanto dobbiamo inseguire la nostra autenticità dove è la ragazza che me l'ha fatta sulla prima eccola quanto dobbiamo inseguire la nostra autenticità quindi forse anche prendere la strada meno battuta quella di cui parlavo prima di Robert Frost e quando invece dobbiamo in qualche modo anche conformarci adeguarci al contesto a rischio di essere noioso riporto il discorso sul tema della tensione io penso che una inseguire in modo diciamo così idiosincratico e quasi diciamo autoreferenziale l'idea che si ha della propria autenticità fuori da un contesto possa essere un'esperienza molto ricca molto intensa che però ha un diciamo può esitare in santità può esitare in follia può esitare in creatività intensissime ma il nucleo incandescente della nostra verità personale proprio perché è incandescente ha bisogno di un involucro Freud diceva che la pelle è il più importante organo psichico questo per dire che il contenitore della nostra autenticità quello che Winnicott lo psicoanalista pediatra di cui parlavo prima chiama il vero se deve in qualche modo stare in una tensione in un dialogo con il contesto e quindi penso che sia necessario prendere la strada meno battuta coltivare la propria autenticità senza mai spegnere i canali di ascolto e di comunicazione con i messaggi che mi sta dando mi stanno arrivando dal mondo dagli amici dalla famiglia dalla scuola dalle letture dagli esempi e quindi se vogliamo spostarci su un versante di pensiero psicoanalitico completamente diverso da quelli che ho menzionato fino adesso ed entrare in un'altra tradizione che è quella jungiana jung che come forse qualcuno di voi sa attribuiva molto valore a delle dimensioni archetipiche della struttura psichica pone tra le dimensioni archetipiche della struttura psichica due figure una è l'anima e l'altra è la persona l'anima è il nucleo psichico incandescente e poetico anche di ricerca della verità personale e l'interrogazione continua è un principio che jung in una prospettiva di genere un po' binaria come si usava un secolo fa legava molto al femminile e parlava però anche di persona come quella fisionomia sociale persona è un termine che ha anche molto a che fare con la maschera la maschera del teatro degli antichi che rappresentava in modo forte un carattere era riconoscibile dal pubblico ed è il nostro adattamento ai contesti sociali ai contesti pubblici e quindi credo che sia importante e ciascuno deve trovare il proprio dosaggio ascoltare quanto e come la realizzazione del proprio vero sé sta in relazione al luogo che poi questo vero sé deve in qualche modo riconoscerlo amarlo e apprezzarlo ma anche al costo di negoziazioni col contesto che non significa essere conformisti significa essere abitati da un principio di realtà questo è molto vicino al tema della seconda domanda quella che parte da Pirandello ed è un tema fondamentalmente legato alla struttura narcisistica perché la domanda se i miei appunti non mi tradiscono è che rapporto in che equilibrio che bilancio dobbiamo fare tra cosa pensano gli altri di noi ma anche cosa pensiamo noi di noi stessi e che peso dare a come gli altri ci vedono è un tema di grandissima attualità perché io penso che a volte ci si perde inseguendo il desiderio di corrispondere a delle aspettative che vengono da fuori pensate che sto parlando di qualche cosa che appartiene alla sfera sociale culturale sociale contemporanea sicuramente sì ma anche molto alla sfera familiare molte difficoltà adolescenziali nascono dal fatto che non perché sono cattivi ma spesso i genitori mettono sulle spalle delle aspettative devono i figli devono realizzare a volte degli obiettivi che i genitori non sono riusciti a realizzare devono essere un po' delle protesi narcisistiche di un segno di di successo di ambizione ora pensate al mito di Dedalo e Icaro Dedalo quando deve aiutare Icaro a volare via dal labirinto che ha costruito il padre architetto per il Minotauro gli dice gli fa delle ali con le piume degli uccelli trovati sulla spiaggia la cera e gli dice adesso vola via da questo labirinto prendetela come un'immagine di realizzazione individuale anche diciamo così di innalzamento rispetto a una costrizione psichica ma non volare troppo in alto perché il sole scioglierebbe la cera e cadresti nel mare ma non volare troppo in basso perché la salsedine impregnerebbe le tue ali e cadresti di nuovo nel mare moriresti in entrambi i casi un bravo genitore è proprio quello che dice trova la tua altezza di volo non un volo troppo muscolare non un volo troppo sottomesso la tua altezza di volo e quindi di nuovo è un invito a stare in uno spazio che è l'attenzione alle aspettative la consapevolezza delle proprie capacità delle proprie vizioni che si distribuiscono nel tempo ci sono anni in cui sono più tranquille anni in cui fioriscono in modo più forte in un film molto bello che ho visto che si intitola Lady Bird forse molti di voi l'hanno visto l'avete visto è una bellissima storia di un adolescente a un certo punto questa ragazza che ha un conflitto molto forte con la mamma che è una mamma che le vuole molto bene ma non riesce a trovare un linguaggio per condividere la crescita e la terribile intensità della crescita in adolescenza la accompagna per fare una cosa carina a provare un vestito e questa ragazza esce dal camerino e ha un vestito che a lei piaceva ma che agli occhi della mamma non le stava bene e la mamma la guarda quasi inorridita e le dice ma non puoi trovare qualcosa che ti stia meglio e questa ragazza le risponde ma questo in questo momento è il modo migliore in cui io riesco a vedere me stessa cioè la capacità di stare in relazione non con l'idea narcisistica di come deve essere il meglio come genitore ma con l'idea empatica di che cosa può in quel momento realizzare la persona che certamente è cresciuto perché fiorisca al mondo il terzo tema è quello della convivenza e mi sembra su questo insomma ho un pochino già risposto prima quando parlavo dell'unusegu et mult in me e del fatto che c'è sempre un tu anche dentro di noi al quale rivolgersi per cercare di costruire insieme quella dimensione insieme a se stessi prima di tutto quella dimensione che poi ci rende in grado di stare in relazione con gli altri e questo scambio continuo tra il me tra l'io e il tu è esemplificato meravigliosamente forse in uno dei versi più famosi della poetessa polacca Witzlava Zinborska lei è riuscita a vincere il Nobel diversamente da Robert Frost quando dice ascolta come mi batte forte il tuo cuore quindi questo tema anche della prossimità e dello scambio in una dimensione dove l'io e il tu è fondativo assolutamente dai allora ragazzi tutte le domande tornate pure in fila le sentiamo tutte insieme ovviamente diciamo tutte le persone che erano in fila da prima siate sintetici è bellissima questa partecipazione purtroppo il tempo è tiranno sappiamo che molti di voi devono poi prendere pullman eccetera buongiorno mi chiamo Veronica sono della terza delle laureabasti scienze umane e volevamo fare una domanda in che modo la società influisce sulla percezione di sé e sull'identità di un individuo quali risposte danno i classici grazie questa è per te Ivano buongiorno sono anche io delle laureabassi sono Alessandro e volevo chiedere una cosa qual è il confine tra essere narcisisti avere rispetto e quindi anche autossima per sé stessi e poi il narcisismo è sempre qualcosa di negativo o anche di positivo buongiorno sono anche da Laura Bassi come ti chiami? Emanuele Basia la nostra domanda è conoscere sé stessi è sempre un bene buongiorno sono Giulio Pugnaghi della seconda F del liceo classico Minghetti mi scuso per una domanda un po' strutturata ma cercherò di leggere veloce riprendendo il vero sé legato al contesto di cui parlava appunto Winnicott nel passo tratto dal libro 3 della natura di Lucrezio rinominato il velo e il vero nell'antologia fornita ci Lucrezio ci dice che ancor più è bene giudicare l'uomo nel pericolo e conoscere la sua qualità nella sorte avversa perché lì e ripitur persona mane tres cade il velo rimane il vero ecco un primo aspetto della domanda sarebbe rivolto al professor Dionigi che di questa traduzione si è occupato personalmente mi ha interessato particolarmente la scelta del velo come traduzione di persona che sarebbe maschera o persona in latino la concezione di velo o maschera come elemento che nasconde la vera natura di un individuo la ritroveremo poi per esempio in Pirandello e mi chiedevo appunto il ragionamento dietro questa scelta interpretativa molto coerente del professore in secondo luogo Lucrezio ci parla di miseri mortali che oltrepassano i confini del giusto per elevarsi alla potenza più grande e ciò lo definirà piaghe della vita quanto questa frase nell'attuale situazione geopolitica che il mondo sta vivendo ci parla del nostro presente da un passato ormai remotissimo grazie mi chiamo Matilde Carabona seconda G linguistico del liceo Rambaldi Valiani Alessandro Daimola mi sono posta una domanda sul narcisismo ed è può il narcisismo provocare comportamenti autolesionistici o altri disturbi come quelli alimentari sono Sibilla Tagliaferri anche io frequento la stessa classe di Matilde quindi la seconda GL del liceo Alessandro Daimola e mi sono posta questa domanda allora il narcisismo patologico inteso come patologico è effettivamente guaribile o è solo un cambiamento di personalità forzato dalla terapia Salve sono Elena Tanasiadis dal liceo classico Marco Minghetti di Bologna e volevo chiedere in relazione alla citazione che è stata fatta prima di Frost sulla strada meno battuta se nel nostro mondo in cui si cerca sempre di essere visibili di essere visti dagli altri e quindi di essere diversi cercare la normalità è qualcosa anch'esso è diventata la nuova strada meno battuta o se è qualcosa da evitare grazie buongiorno sono Marilena Denzi della quarta FLE Scienze umane Cambridge dell'istituto Enrico Mattei e a noi erano sorte due domande però abbastanza coincise la prima in relazione ad Aristotele al testo dell'uomo e l'animale politico in che modo è possibile essere un uomo politico e sociale in una società dove vige il concetto di Morstua Vitamea e la seconda domanda è più generalmente quanto è là possiamo spingerci prima che la nostra potenza diventi prepotenza che secondo noi è applicabile sia a livello spirituale che psicologico che chiaramente letterario salve mi chiamo Leonardo Amistè frequento la terza del liceo classico Galvani la domanda che mi sono posta è la seguente la cornice entro cui i greci scrivono nella relazione noi altri è quella di una comunità organizzata secondo le norme le istituzioni le funzioni e le dinamiche particolari che la polis greca ha storicamente assunto tra l'ottavo e il quinto secolo avanti Cristo tanto chi si identifica nel pronome noi quanto chi rappresenta gli altri con cui noi si rapporta è costituito da politai i cives la politeia è dunque una discriminante identitaria è la soglia di eccesso o al contrario di sbarramento ai diritti che la cittadinanza comporta questa è la cornice dentro cui stiamo anche oggi con la variante che i diritti di cittadinanza nell'età moderna si sono aggiunti anche i diritti umani che richiedono comunque di essere tutelati ma da quale polis insomma come la mettiamo con gli altri con i tanti altri che cittadini non sono scusate ragazzi ora siete già tantissimi quindi non aggiungetevi più in fondo alla fila perché se no non arriveremo mai alla fine purtroppo dobbiamo vedere come a che punto arriviamo con queste domande quindi fino all'ultimo della fila anche io frequento il liceo Galvani e allora io volevo chiedere Seneca nell'epistola 7 declina la relazione noi altri in termini sociali non solo sollevando il tema dell'alienazione dell'individuo nella società di massa ma anche segnalando un paradosso che ci tocca le occupazioni di cui parla nell'epistola spettacoli giochi e in generale occasioni in cui si entra in contatto con i molti non esaltano ma anzi stravolgono la natura sociabilis dell'uomo per cui o ci scagliamo gli uni contro gli altri o degli altri assumiamo gli atteggiamenti e comportamenti peggiori anche i nostri social media mostrano dei limiti in questo senso non è qui che si realizza più di tanto la lapidum fornicazio di cui parla Seneca per dove passa secondo voi una buona socialità? io sono Caterina Prandi della classe terza del Licio Galvani e sul tema maschere il volto il dialogo Sosia-Mercurio nell'anfitro di Plauto più che dispensare qualche certezza semina più dubbi in primo luogo mettendo in dubbio che il nome e il volto siano componenti essenziali dell'identità e non piuttosto degli identificatori sociali che devono cioè essere convalidati dall'esterno dagli altri e in secondo luogo il dialogo Sosia-Mercurio solleva un altro problema quanto cioè possiamo fare affidamento sulla memoria per essere certi di possedere un solido permanente nucleo di identità intesa come continuità del nostro io nel tempo grazie io sono Giulia Torri sempre della terza del liceo Galvani volevo dire spesso il volto e la maschera vengono messi in un rapporto tale per cui il primo è sinonimo di autenticità mentre la seconda è di finzione insomma uno rivela e l'altra occulta non può essere invece che la maschera più sottilmente alluda quindi sfidi e solleciti lo sguardo a cercare oltre a pensare obliquamente più che ad avere aspettative frontali? salve sono Linda Santoni del liceo Minghetti e mi chiedevo in un mondo scisso come quello di adesso in cui anche l'individuo soffre di una crisi come fa la psicanalisi moderna a fare affidamento ancora oppure ad adattare al mondo di adesso la teoria dell'inconscio collettivo di Jung salve sono Trenti Filippo della classe 4a M del liceo Galvani scientifico e abbiamo letto in classe come le nuove generazioni possono essere definite come nani sulle spalle dei giganti condizione che dovrebbe aiutarci ad affrontare meglio il presente e a comprendere meglio il futuro sebbene sembra che negli ultimi anni questa situazione sia sempre più precaria e perché ciò accade e cosa si può fare per riprendere possesso di quella posizione che tanto ci ha aiutato ad affrontare la nostra vita grazie buongiorno sono Luca Biancani Rozi della quinta N liceo Laura Bassi scienza umana volevo fare uno spunto su tre pensieri in particolare avevo scritto Heidegger in essere tempo parla di un essere per la morte come modalità più autentica dell'essere il suo essere più proprio in Schopenhauer non è proprio in ordine cronologico la negazione della volontà di vivere nel mondo come volontà di rappresentazione quindi la distruzione della personalità la stessa individualità annientata uninedia nella figura della sceta e poi volevo anche collegarmi al pensiero di Freud in al di là il principio di piacere non solo come pulsione di morte verso l'altro e verso il più vicino a noi ma anche una pulsione di morte masochistica masochistica a livello proprio individuale e una distruzione anche una volontà di tornare a uno stato inorganico quindi le domande in realtà sono in che modo il vivente vive la morte come sua caratteristica più propria e comunitaria e quindi in che senso prepararsi alle morte come inevitabile indeterminate caratteristiche individuale in che senso perciò il nostro agire dipende da questo estremo limite grazie salve sono Gualtiero Marzarolli della Quinta dell'Aura Bassi in riferimento al brano l'annuncio sulla morte di Dio e di Nice la mia domanda è secondo voi prevale la constatazione dello smarrimento dell'umanità di fronte al venir meno di ogni certezza oppure la considerazione che la morte di Dio rappresenta un passaggio necessario verso un'esistenza completamente rinnovata e un'altra secondo voi gli esseri umani possono vivere senza fare affidamento su qualcosa che li trascende? grazie grazie allora tutte queste ultime domande sulla morte mi hanno fatto pensare che mi volete morto perché sono davvero bellissime tantissime stimolanti intense e cercherò un po' di fare un discorso che tocca diversi punti di quelli che avete sollevato sollevandomi dalle parti più direttamente classiche filologiche con riferimenti agli autori antichi che invece lascio per diciamo competenza magistrale a Ivano e forse anche le domande che fanno riferimento più alla relazione con una dimensione trascendentale con un tema di fede a Gianfranco Ravasi o mentre Veronica Alessandro Emanuele Giulio Matilde Sibilla Elena Luca e così via ponevano tutte le loro domande ho cercato di capire quali sono i nuclei tematici di queste domande che come è più che comprensibile in una mattinata dedicata a un grande argomento come l'identità si richiamano tra loro e rimbalzano tra di loro un tema sicuramente che è tornato in molte delle vostre domande è quello del significato del proprio valore della relazione con l'altro dal punto di vista anche della questione narcisistica e quindi partirò da qui anche perché il tema del narcisismo è legato poi al tema della distruttività e a un tema strettamente clinico come quello che è stato evocato proprio mi sembra da Matilde forse con il tema dei disturbi alimentari o dell'autolesionismo oppure un'altra domanda che riguardava la guaribilità delle strutture narcisistiche di personalità ma forse anche l'ultima domanda di Luca che faceva riferimento a questa prossimità della dimensione mortale anche come orizzonte da una parte di consapevolezza ma dall'altra parte invece anche di sofferenza e di depressività allora partiamo da quel concetto che forse ho diciamo tratteggiato troppo brevemente nessuno di noi è esente da una questione narcisistica tutti noi partiamo da una domanda che si divide in due ed è quanto valgo quanto mi piaccio e quanto piaccio agli altri quanto gli altri mi considerano una persona da frequentare da seguire da apprezzare da ammirare vedete già che le sfumature sono molte il problema non è questo queste due domande quanto mi piaccio e quanto piaccio agli altri sono delle domande rispetto alle quali non possiamo fare a meno quindi io direi siamo tutti narcisisti il problema è come siamo narcisisti e quanto siamo narcisisti la competenza anche di un clinico nel corso di un colloquio è capire dove finisce il territorio diciamo così del narcisismo sano che vi ho brevemente descritto prima e dove iniziano i territori del narcisismo patologico verso l'eccessiva fragilità che coltiva però un'invidia distruttiva quindi un'ammirazione finta e invece la grandiosità che può svilupparsi fino a una tale mancanza di interesse e rispetto per l'alterità da sconfinare dal narcisismo al narcisismo maligno fino alla psicopatia se avete visto negli anni passati una serie che si chiama The Serpent che è la storia di un individuo molto narcisista molto psicopatico che si chiamava il serpente perché incantava le sue vittime comprendendo la fragilità e il desiderio di essere apprezzate amate da queste da un'altra persona queste donne da un'altra persona ma poi utilizzava l'ascendente che coltivava su di loro per coltivare la propria grandiosità che arrivava ad essere una grandiosità distruttiva e omicida quindi il punto è quanto siamo consapevoli dell'uso che facciamo o possiamo fare di questi bisogni fondamentali di piacerci e di piacere agli altri e sappiamo che c'è tutto un gradiente proprio diagnostico perché se vogliamo entrare nel campo specialistico se voi prendete qualsiasi manuale di psichiatria c'è un grosso capitolo che si chiama i disturbi della personalità sono contenuti vari disturbi della personalità che sono dei tratti eccessivamente pervasivi che dominano il carattere quindi non un po' di diffidenza ma uno stile paranoide non un po' di passione per il controllo e l'ordine ma uno stile ossessivo quindi non una certa tumultuosità affettiva ma uno stile borderline disregolato e quindi non una diciamo così legittimo domandarsi sul valore di se stessi ma una problematica narcisistica che si chiama disturbo narcisistico della personalità il disturbo narcisistico della personalità è anche un po' un architrave di tante situazioni problematiche che naturalmente nascono dal non piacersi abbastanza la ragazza che citava i disturbi alimentari le tematiche anoressiche e bulimiche faceva giustamente riferimento mi chiedeva giustamente ma quanto la personalità narcisistica incide in questo tipo di sofferenze in questo tipo di disagio beh moltissimo perché è una sorta di reinvenzione mortifera relativamente a un corpo non amato e quindi per esempio estenuato nella dieta e quindi il tema narcisistico è trasversale a tutte le forme di sofferenza psicologica e per chi mi chiedeva cosa può fare la psicoanalisi cosa può fare la psicoterapia intanto non c'è una ricetta sola ci sono tante persone che sono magari accomunate da un'etichetta diagnostica ma hanno poi caratteristiche molto diverse biologiche familiari personali affettive caratteriali e quindi per affrontare le tematiche narcisistiche per alcune persone è più indicata una terapia individuale per altri una terapia di gruppo per alcune persone è più indicata una terapia diciamo cognitivo comportamentale più legata a diciamo programmazione e ristrutturazione di alcuni aspetti proprio delle credenze patologiche della cognitività altre invece una terapia più psicodinamica più psicoanalitica legata all'interpretazione alla costruzione del passato e alle attribuzioni di significati quindi c'è un panorama terapeutico molto ampio ma la risposta se la terapia nella sua varietà di proposte può intervenire non come falsificazione adeguamento falso se ma come trasformazione riconoscimento anche passando attraverso una consapevolezza depressiva delle questioni narcisistiche nucleari certo che sì anzi direi che c'è un'indicazione forte mi direte un'altra cosa è più facile che la persona che ha la sofferenza narcisistica fragile che non si piace chieda una terapia è più difficile che chi si piace troppo si piace molto e calpesta gli altri chieda una terapia di solito viene in terapia diciamo il narcisista grandioso quando ha collezionato una serie di fallimenti ed è anche una situazione molto difficile perché si parla proprio di depressione narcisistica perché questa immagine ideale idealizzata di sé viene a crollare drammaticamente anche con un contenuto a volte suicidario e quindi c'è un lavoro paradossalmente di ricostruzione di un sé infranto perché è caduto da un piano troppo alto adesso non voglio entrare troppo nelle specificità cliniche ma insomma per rispondere un po' a queste domande grossomodo sull'arcipelago del narcisismo e sull'efficacia della terapia ricordatevi però sempre che alla base delle problematiche narcisistiche c'è un tema di non essersi sentiti visti oppure di essere stati guardati troppo con troppe aspettative quindi il terapeuta il clinico o la clinica diventa quella persona che modula l'intensità dello sguardo e del riconoscimento per poter ricostruire delle parti diciamo distrutte durante lo sviluppo una piccola poesia per farvi capire in pochissimi versi come può essere il narcisismo sano pur essendo narcisista è una poesia di un poeta che tra l'altro oggi è stato citato che io amo molto che è Giorgio Caproni dedicata a un amico poeta anche lui forse più famoso ma altrettanto bravo che è Umberto Saba e c'è un punto di questa poesia in cui Caproni descrive Umberto Saba e dice sempre di sé parlava quindi uno dice Narciso ricordatevi che una diagnosi che si fa al volo è se incontro un amico se incontro qualcuno chiacchieriamo un'oretta e non mi chiede mai come sto come stai tu e dice sempre cosa fa lui come bravo quanti successi quante fidanzate quanti fidanzati siamo un po' in area arcipelago ma Umberto Saba sempre di sé parlava ma come lui nessuno ho conosciuto che di sé parlando e ad altri vita chiedendo nel parlare altrettanta e tanta più ne desse a chi stava ad ascoltarlo quindi c'è una generosità narcisistica anche nell'entusiasmo del racconto di se stessi che a volte effettivamente è un po' dominante ma contempla l'ascolto la narrazione la fascinazione è inevitabile una componente narcisistica per avere presa anche sugli altri ma il punto è che deve contenere la capacità di empatia la capacità di gratitudine e soprattutto non avere quella cosa che è indicata da una parola tedesca terribile che è la schadenfreude che significa il godimento per il fallimento delle altre persone brevissimamente invece sul tema mors tua vita mia teatri di guerra teatri di vita insomma capite che ci vorrebbe un'altra mattinata io sulla guerra penso che un libro uno scritto ancora molto interessante sia uno scritto di Freud voi dovete sapere che mi sembra nel 32 diedero in carico a Einstein di fare la domanda perché la guerra a chi volesse e lui scelse di farla a Freud e Freud disse sostanzialmente che la guerra è un po' intrinseca alla condizione umana questo aspetto ferino e feroce è legato alla dimensione pulsionale primitiva della sopraffazione della conquista dei mezzi di sussistenza e poi però dice una cosa molto importante che c'è Freud dice tutto ciò che promuove l'evoluzione della civiltà lavora contro la guerra e produce lui dice un rifiuto psichico cioè è semplicemente la costruzione di una cultura e di una cultura come l'abbiamo definita fino ad oggi ricordatevi una cosa avete sentito tante citazioni tanti autori tante poesie tante frasi di filosofi non è uno sfoggio narcisistico o perlomeno non del tutto è quell'idea di Borges per cui sono più orgoglioso dei libri che ho letto che dei libri che ho scritto cioè questo tema della costruzione della civiltà è la lettura chi è che diceva siamo nani sulle spalle di giganti qualcuno lei è la relazione che sia sull'iPad sull'Iliad o sulla polverosa biblioteca del mio studio non ha importanza ogni generazione ha i suoi supporti testuali ma è la consapevolezza di una storia di una tradizione di una lettura e di una costruzione di civiltà che naturalmente purtroppo contiene anche la guerra perché la guerra ha questo paradosso terribile è molto umana ed è al tempo stesso molto anti-umana molto disumana ha delle radici profonde inestricabili nella storia dell'umanità ma al tempo stesso è un impensabile per quello che do importanza al sogno per quello che do importanza a quella bellissima bellissima passo dai diari di Etti Illesum una donna morta una donna olandese una filosofa olandese una scrittrice olandese morta nel campo che dice che anche dentro una pozzanghera potrà vedere riflesso il gelsomino che cresce su quella parete cioè questa idea che c'è comunque una tensione verso anche l'utopia verso la grazia verso la salvezza indipendentemente dal fatto che la pensiamo in un contesto religioso o in un contesto laico ma come possibilità di sperare in una trasformazione anche della dimensione più feroce dell'umano e questo è un principio che si chiama proprio il principio speranza che lega molto i discorsi che abbiamo fatto fino adesso un'ultimissima cosa non dimenticate mai una cosa che ricordava Stefano Rodotà che è un uomo a cui io sono stato molto amico è un giurista costituzionalista morto un po' di anni fa diceva non dimenticate che quando parlate di identità c'è un'altra parola da affiancare sempre dignità identità e dignità vanno insieme questo anche in relazione alla ragazza che poneva la domanda sulla questione di come relazionarci a queste alterità che non hanno cittadinanza a queste alterità che non hanno territorio e Primo Levi e con questo concludo per vivere diceva occorre un'identità virgola ossia una dignità perfetto allora lasciamo la conclusione al professor Ivano Dionigi veramente nessuna conclusione ma solo qui sono state fatte delle domande rivolte anche a me come classicista che sono delle domande fondamentali identità secondi classici la maschera in Lucrezio la politica in Aristote la cittadinanza dei greci i nostri diritti civili il popolus dell'epistola settima di sei l'alienazione del popolus la memoria nani sui giganti la morte sulla morte proprio dicevo adesso con con l'amico Ravasi che prima della pandemia ho fatto due incontri in due licei di due regioni diverse due ragazze sembra che si fossero messe d'accordo a distanza di due mesi ma hanno fatto la stessa domanda professore cosa pensa lei della morte allora la dico così ovviamente come si dice un'invita nozze per me poter rispondere a tutte queste domande e starei qui fino a dopodomani questo non è possibile però ecco voglio dire questo noi abbiamo raggiunto un duplice scopo oggi primo di farvi protagonisti quella lunga fila è un piacere dell'anima oltre che della vista fare domande perché è più importante se l'ha detto stamattina il cardinale è l'arsi interroganti quando uno fa le domande vuol dire che ha già scartato tante risposte che non lo soddisfano quindi siete alla ricerca questo il protagonismo è l'arte delle domande credo che possiamo essere ben soddisfatti di aver raggiunto questo duplice scopo alcune domande rimangono rimangono fondamentali che avete fatto ancora sospese sono importanti per due motivi primo perché l'avete ricondotto sia all'oggi sia alla vostra vita e poi a ben vedere alcune delle domande erano fatte in forma così disgiuntiva quasi retorica dove avevate già voi la risposta io però vorrei concludere e così mi date ancora due minuti e mezzo proprio perché voi siete i protagonisti ho trovato in un testo tempo fa questo appello ai giovani siete voi i destinitari non solo ma i protagonisti di questa giornata e allora vorrei che a nome anche di Vittorio Lingiardi di Lara Gaspari Gianfranco Ravasi i cortili gentili gli amici del centro della permanenza l'ufficio scolastico regionale congedarci e congedarvi con queste parole rivolte a voi mostrate i vostri volti fate sentire la vostra voce un testo che ho letto un paio di anni fa non siate clandestini il vostro tempo non è domani è ora voi che avete il futuro nel sangue e il privilegio di dare del tuo al tempo a voi giovani il compito stupendo e tremendo di prendervi cura dell'anima della città perché essa sia rivolta al proprio futuro sia disponibile a cambiare avverta la corsa del tempo oltre l'immobilità dello spazio il tempo l'unica dimensione che ci riconduce alla memoria al progetto ai trapassati ai nascituri ripristinate l'uso del futuro e del lottativo modalità verbali in via di estinzione a voi spetta invenire il diritto di inventare il novum l'inatteso il mai visto il mai sperimentato ma anche il dovere di sotterrare il notum dei padri della storia della tradizione seguiti il vostro demone ma vi sia di esempio quella pagina in cui Marco Aurelio ricorda e ringrazia per nome a uno a uno tutti coloro che lo hanno aiutato e formato nonno padre madre bisnonno precettori tutti i maestri i parenti gli amici e i bravi servitori l'avevate nell'antologia questo brano che vi abbiamo trasmesso impegnatevi in politica fatelo con passione e orgoglio non solo per affermare voi stessi ma fatelo anche per una sorta di pietas verso di noi che non ce l'abbiamo fatta lasciarvi un mondo migliore noi abbiamo vendemmiato più che seminato l'anagrafe non vi è stata benevola arrivato in un mondo costruito su misura dei padri dovete ora voi costruirne uno per i vostri figli siate consapevoli della vostra forza perché il tempo vi è amico siate insoddisfatti siate esigenti siate rigorosi vorrei dirvi siate perfetti il mondo sarà migliore il giorno in cui non diremo più di un ragazzo o di una ragazza e tutto suo padre e tutta sua madre ma di un genitore diremo e tutto suo figlio e tutta sua figlia ciao a tutti grazie grazie vi salutiamo siamo riusciti incredibilmente ad essere puntuali la mia ansia se ne va volevo solo ricordare che prima un ragazzo del Minghetti mi ha scritto su un pezzo di carta questa sua domanda quanto è importante questa frase di Terenzio per il pensiero e la filosofia occidentale una frase che rimbalza da Terenzio a Spinoza a Marx e che credo oggi abbiamo reso viva in questa sala grazie 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 a tutti